Più di 900 persone, 713 veicoli e 33 esercizi pubblici controllati sono i numeri dei servizi di controllo straordinario del territorio eseguiti durante il mese di maggio dai Carabinieri di Piacenza, con l'impiego dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del IV Battaglione Carabinieri Veneto. Su oltre 45 persone controllate, molte con precedenti di polizia, si sono avviati approfondimenti. Sono 186 militari impiegati complessivamente, 22 le contravvenzioni elevate, 2 le patenti ritirate ed un grammo di cocaina sequestrato. Fumavano spinelli davanti a mamme e bambini, è accaduto ieri mattina intorno alle 11 ai giardinetti sul pubblico passeggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante, chiamati da alcuni presenti, che hanno fermato tre ragazzi di 18 anni ed uno di 17. Sono tutti piacentini, i 4 avevano 2 grammi di hashish e per questo motivo sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.